È stata convocata per mercoledì 10 aprile alle 11 la seduta di insediamento del Consiglio regionale dell'Abruzzo che darà inizio alla dodicesima legislatura della Regione. Il consigliere regionale anziano Luciano Marinucci ha firmato la convocazione dopo aver sentito il Presidente della Regione Marco Marsilio. L'Assemblea legislativa sarà chiamata ad eleggere l'Ufficio di Presidenza, composto da Presidente, Vicepresidenti e Segretari. Il primo punto all'ordine del giorno sarà proprio l'elezione del nuovo Presidente del Consiglio che guiderà i lavori dell'Assemblea per i prossimi 5 anni. La seduta si concluderà con la presentazione ufficiale dei componenti della Giunta, nominata dal Presidente Marsilio e con l'esposizione del programma di governo da parte del Presidente stesso. L'insediamento del Consiglio regionale rappresenta un momento importante per la democrazia abruzzese. I cittadini avranno la possibilità di conoscere i nuovi rappresentanti eletti in Consiglio e le loro proposte per il futuro della Regione. Con l'avvio della dodicesima legislatura si apre una nuova fase per l'Abruzzo. La sfida sarà quella di affrontare le numerose problematiche che la Regione si trova ad affrontare, a partire dalla sanità fino allo sviluppo economico e sociale. La sfida sarà quella di attenzione del Consiglio regionale.